Un incendio ha interessato la collina di Monte Sant'Angelo alle spalle dell'Università Omonima nel quartiere fuori grotta Napoli. Spinte dal forte vento le fiamme si sono propagate velocemente lambendo alcune abitazioni. Preoccupazione da parte dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rispondere alle richieste di aiuto e circoscrivere il fronte del rogo. Un altro incendio è esploso nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli in traversa vicinale Fossitelli al confine tra i quartieri di Barra e Ponticelli. Da quanto riferiscono i carabinieri le fiamme sono divampate a pochi metri da via Argine all'interno di un capannone di stoccaggio di materiali che pare sarebbero di provenienza cinese. Sul posto i militari della compagnia di Poggioreale e del nucleo radiomobile di Napoli oltre ai vigili del fuoco. Al momento non si conoscono le cause del rogo che è divampato a pochi passi dalla motorizzazione civile e da altre aziende con sede a Napoli Est. Grazie a tutti.